L'economia internazionale è in crisi e anche le imprese locali soccombono in questi tempi bui. Per contrastare al meglio la recessione, la Fideas SRL di Offida ha organizzato un evento informativo e formativo utile a fare il punto sui nuovi obblighi e sulle nuove opportunità per le imprese. Tutte azioni per aiutare le nostre aziende ad affrontare con successo le nuove sfide, migliorando però la propria competitività. La Fideas, del patron Giuliano Bartolomei, ha ospitato l'evento presso la sala convegni dell'Enoteca regionale di Offida. Ad aprire i lavori ci hanno pensato il vicepresidente della provincia, Emilio Mandozzi, e l'assessore al turismo di Offida, Valerio Lucciarini. Tanti gli interventi interessanti presentati davanti ad una platea nutrita di imprenditori e addetti ai lavori. Roberto Panesi ha presentato alcuni bandi per le imprese e amministrazioni. Alcuni di questi bandi riguardano sia le imprese e sia gli enti pubblici come i comuni, le unioni dei comuni, eccetera. Sono progetti integrati che mirano ad esempio alla ristrutturazione delle aree pubbliche per il commercio come i mercati e finanziano investimenti in macchinari, attrezzature, hardware e software specifici per l'amministrazione. Mariella Poggi invece ha presentato l'autoimpiego, inteso come lavoro autonomo, microimpresa e franchising. Nella nostra zona l'attività che va per la maggiore è la prima. Nelle nostre zone ci sono molte attività di lavoro, molto lavoro autonomo, come infatti sono tutte individuali perché la realtà è una realtà piccola, quindi diciamo la maggiore è il lavoro autonomo, ma anche microimpresa. Diciamo che il franchising è quello meno utilizzato. E infine uno sguardo alle norme, importantissime sulla sicurezza sul lavoro. Questa, secondo l'ingegner Giuseppe Paccone del CESCOT, può essere garantita solo grazie alla formazione di una vera cultura d'impresa. Tutti dobbiamo dare qualcosa di in più in questo percorso, ritenendo la sicurezza non più solo un attempimento burocratico, quindi che la legge ci impone quasi come una tassa, ma vivendola invece come un effettivo valore per l'impresa.